Marisa Merlini è stata un'attrice italiana conosciuta per il suo talento versatile e le sue interpretazioni affascinanti. Nata il 6 agosto 1923 a Roma, Italia, ha intrapreso una carriera straordinaria nel mondo del cinema e del teatro. La sua vita è stata contrassegnata sia dal successo che dalle sfide personali, rendendola una figura amata e duratura nell'intrattenimento italiano. Il percorso di Marisa Merlini nell'industria dell'intrattenimento è iniziato nel periodo post-seconda guerra mondiale, quando ha debuttato nel film Toto cerca pace nel 1946. La sua collaborazione con l'iconico attore e comico italiano Toto è diventata un elemento definitorio della sua carriera. Hanno lavorato insieme in numerosi film, formando una straordinaria partnership sullo schermo che ha fatto eco nel pubblico. Una delle sue interpretazioni degne di nota accanto a Toto è stata in Toto e Carolina, 1955, una commedia italiana classica. La capacità di Merlini di consegnare sia l'umorismo che la profondità nei suoi ruoli l'ha resa un'attrice molto ricercata, non solo nelle commedie, ma anche nei drammi. La sua versatilità e le sue abilità recitative le hanno permesso di affrontare una vasta gamma di personaggi, dal comico al drammatico. Nonostante i suoi successi professionali, la vita personale di Marisa Merlini è stata contrassegnata dalla tragedia. Ha sperimentato la sofferenza di perdere suo marito, il regista italiano Federico Fellini, nel 1993. Fellini, noto per i suoi film rivoluzionari, è stata una figura significativa nel cinema italiano. La sua scomparsa è stata una perdita profonda per Merlini e ha segnato un capitolo cupo nella sua vita. La tragedia della perdita del marito, il regista cinematografico italiano Federico Fellini, è stata un'esperienza profonda e che ha cambiato la vita dell'attrice Marisa Merlini. La loro storia d'amore era significativa sia dal punto di vista personale che professionale, e la sua scomparsa nel 1993 ha lasciato un profondo vuoto nella sua vita. Marisa Merlini e Federico Fellini avevano un legame che superava i confini delle rispettive carriere. Entrambi erano luminarie del cinema italiano, noti per il loro straordinario contributo all'industria. I loro percorsi si sono incrociati nel mondo del cinema, dove hanno sviluppato un profondo rispetto reciproco e ammirazione per il lavoro dell'altro. L'ammirazione si è presto trasformata in una relazione romantica, e si sono sposati nel 1943. La loro partnership era una collaborazione artistica e una connessione personale. Il genio creativo di Fellini era ben noto, e i suoi film rivoluzionari, come La dolce vita e Otto e un mezzo, sono stati celebrati a livello internazionale. Marisa Merlini, d'altra parte, era un'attrice versatile conosciuta per la sua capacità di interpretare una vasta gamma di personaggi. Il suo talento e la sua dedizione alla sua arte erano evidenti in ogni ruolo che intraprendeva. Insieme, hanno formato una coppia di potere nel cinema italiano. Il loro matrimonio era un armonioso connubio di amore e interessi condivisi. Hanno lavorato insieme in diversi progetti cinematografici, con Marisa che spesso interpretava ruoli nei film di Fellini. Questa collaborazione professionale ha aggiunto profondità e sfumature alla loro relazione, poiché condividevano le proprie passioni creative e le sfide dell'industria cinematografica. Tuttavia, la loro storia d'amore ha affrontato le sue sfide. L'industria dell'intrattenimento può essere impegnativa, e le pressioni della fama e delle aspirazioni artistiche possono mettere a dura prova le relazioni personali. La costante attenzione dei media e le aspettative legate a far parte dell'industria cinematografica pesavano a tratti sul loro matrimonio. Nonostante queste pressioni esterne, il loro legame è rimasto saldo. La tragedia ha colpito quando la salute di Federico Fellini ha cominciato a deteriorarsi. All'inizio degli anni 90, ha affrontato una serie di problemi di salute, tra cui problemi cardiaci e un ictus. Marisa Merlini è rimasta al suo fianco, fornendogli un sostegno incondizionato e cure. Ha assistito mentre l'uomo che aveva ammirato e amato, un genio del cinema, affrontava sfide fisiche ed emotive. Il 31 ottobre 1993, il mondo ha pianto la perdita di Federico Fellini. La sua scomparsa ha segnato la fine di un'era nel cinema italiano, lasciando un vuoto che si è fatto sentire non solo nell'industria cinematografica, ma anche nei cuori di coloro che ammiravano il suo lavoro. Per Marisa Merlini, è stata una tragedia personale che ha scosso le fondamenta della sua vita. Il dolore di perdere il marito fu un peso gravoso da sopportare. La perdita della persona che era stata la sua compagna, confidente e compagna nella vita e nell'arte fu un colpo emotivo profondo. Il mondo di Marisa Merlini fu cambiato per sempre, e si ritrovò in un nuovo capitolo della vita che non aveva previsto. Il periodo di lutto fu segnato da un senso di profonda tristezza e vuoto. Il mondo aveva perso un regista visionario, e Marisa aveva perso l'amore della sua vita. Fu un momento di riflessione e introspezione, mentre cercava di affrontare la realtà di una vita senza l'uomo che era stato il suo punto di riferimento. Nel periodo successivo alla scomparsa di Federico Fellini, Marisa Merlini continuò a onorarne la memoria preservando il suo lascito. Rimase attiva nell'industria cinematografica e partecipò a progetti che omaggiavano il suo lavoro. Il suo impegno nel preservare il suo patrimonio artistico fu una testimonianza del suo amore duraturo e del rispetto per lui. La vita di Marisa Merlini dopo la morte del marito fu contrassegnata da sfide personali e professionali. L'assenza di Fellini lasciò un vuoto che non avrebbe mai potuto essere colmato. Tuttavia, la sua dedizione alla sua arte e il suo amore per il cinema la mantennero in movimento. Continuò a recitare in film, aggiungendo ulteriormente al già impressionante corpo di lavoro. Nel 2008, Marisa Merlini stessa ci lasciò, segnando la fine di un'era nel cinema italiano. La sua vita fu una testimonianza dell'indelebile impatto dell'amore e dell'arte, e la sua storia è quella di una donna straordinaria che affrontò le complessità della vita con forza, grazie a un impegno duraturo per la sua arte. La tragedia della perdita di Federico Fellini fu un capitolo profondo nella sua vita, ma fu uno che affrontò con resilienza e un amore duraturo per l'uomo che aveva condiviso il suo percorso.